Ho conosciuto Venus e Serena quando avevano 11 e 9 anni. Frequentavano l'accademia di Rick Mackey. Sono anch'io una tennista e so riconoscere il talento. Quando conobbi Richard Williams, mi parve una persona davvero eccezionale. Era diverso dagli altri. Portava le sacche da tennis, indossava pantaloncini bianchi e aveva l'aria bulbera. Ripeteva, siamo di Compton, le mie figlie sono di Compton. Lo diceva con orgoglio perché ne andava fiero. Non lo dimenticherò mai. Tutti si chiedevano, chi è quel tipo, quel Richard Williams? Venus, she has every quality to be a champion. And she will be. And that's why what makes Venus Venus. And Serena, it's something like a pet bull doll. Once she gets a hold to you, she won't let go. Serena will probably be a better player than Venus. That's not to compare with our girls, but she will be. And she will be. Grazie a tutti